In Italia risale lo spreco alimentare nelle case, che vale quasi 7,5 miliardi di euro. In un anno si è passati da 75 grammi di cibo gettato ogni giorno a testa a quasi 81 grammi, in pratica più di mezzo chilo a settimana. Si tratta dell'8,05 in più rispetto a un anno fa, per un costo annua famiglia di 290 euro. È la fotografia che emerge dal rapporto Il Caso Italia dell'Osservatorio Waste Watcher International 2024 in vista dell'undicesima giornata nazionale di prevenzione in programma lunedì 5 febbraio. Tanti i dati che tracciano un quadro dove la piena ripresa delle attività e abitudini post-pandemia ha aumentato di fatto la disattenzione nella prevenzione degli sprechi. Si butta cibo più nelle città e nei grandi comuni, più 8%, che nei piccoli centri e più spreconi sono le famiglie senza figli, più 3%, e i consumatori a basso potere d'acquisto, più 17%. Un fenomeno più accentuato al sud, più 4% rispetto alla media nazionale, e meno al nord, meno 6%. Conti alla mano, complessivamente lo spreco di cibo in Italia vale 13 miliardi, dove oltre a quello domestico c'è anche quello nella distribuzione, di quasi 4 miliardi, e quello in campo e nell'industria molto più contenuto. Forte e chiara la questione legata all'allarme sociale, come testimoniano i dati che misurano il livello di accesso alle persone a cibo adeguato e nutriente. Chi si dichiara povero mangia peggio e spreca di più, più 17%. L'effetto prolungato dell'inflazione abbassa, infatti, il potere d'acquisto, e indirizza verso cibo di peggiore qualità e più facilmente deteriorabile. Un consumatore su due cerca cibo a ridosso di scadenza per risparmiare. Il 41% sceglie il discount a scapito del negozio. Il 77% ha intaccato i risparmi per fare fronte al costo della vita. Il 28% ha tagliato ulteriormente il budget per la spesa alimentare. Scende infine, con tutta evidenza, il consumo del cibo biologico, perché è più costoso.